Adesso è andato anche a Napoli, l'hai visto? Sì. A ridere, l'avete visto Napoli? Che dice che la corruzione spuzza. Beh è stato bravo, ha detto parole pazzesche. Però è il momento migliore in assoluto, il momento supremo della comicità e massima quando ha conosciuto le suore di clausura. Possiamo mandare il video. Guardate questo video che è vero, eh? Che fa morire del ridere. Ho dato facoltà, ho dato facoltà a tutte le suore di clausura di sette conventi di Napoli che stanno qui a uscire. Eccole, eccole. Queste sono tutte di clausura. Oh, eh, eh, do, 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 do. Oh, eh, da roviate. No, boh, ma guarda a cavallo. Guardate lui che faccia? Sorelle, dopo. Oh, no. Guarda, guarda. E questi sono i clausuri, figuriamoci quelli non clausuri. Ma questo era il cardinale Sepe, eh? Eh, mi sono mangiato. Sorelle, dà l'impe che fa? Sorelle, ahia, ahia, la giocchina, Sepe, su. Che la, che la, che la, Sepe, se. No, ma capisci? Ma è meraviglioso. È il tormento che è meraviglioso. Ma è lui. E poi questi suore, che non si capisce se erano tutti intorno al papa perché non avevo mai visto un papa o non avevo mai visto un uomo da questo tempo. Ma guarda, è troppo ridere. Grazie.